Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. Buon pomeriggio e benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta. Nella seconda parte parleremo di armocromia, scopriremo di che cosa si tratta più avanti, sempre che non lo sappiate già se avete seguito paradossalmente la politica in queste ultime settimane. Nella prima parte invece parliamo della Corsa del Ricordo che è in programma il 5 novembre. Lo faremo assieme ad Alessandro Piemonte che è il presidente di Trieste Corre e a Omar Fanciullo di Trieste Atletica. Grazie per essere tornati nei nostri studi. Per correttezza nei confronti degli ospiti e nei confronti dei telespettatori spieghiamo che questo segmento è registrato anche perché proprio in questo momento questa edizione della Corsa del Ricordo viene presentata ufficialmente nella sede della Rega Nazionale. La Corsa del Ricordo è giunta alla sesta edizione, ha recuperato in un anno l'edizione del 2020 che per motivi che è inutile ripetere è saltata. Che cos'è la Corsa del Ricordo? La Corsa del Ricordo è un momento sportivo che però vuole ricordare l'esodo fiumano d'Almato e tutte quelle pagine di storia che noi qui a Trieste ben conosciamo. Casualmente quest'anno si tiene proprio il 5 novembre che è una data molto importante della quale poi parleremo anche ampiamente la prossima settimana. Mi pare che di solito si svolgeva un poco prima, non a novembre. Normalmente la Corsa si salisce diciamo a metà di settembre, a metà fine settembre. Quest'anno per questioni tecniche abbiamo dovuto rinviarla, ma di fatto speriamo che sia comunque una buona domenica, se non di sole, quantomeno non piovoso ovviamente. Anche se devo dire la verità che proprio a giugno del 2021, quando abbiamo rinviato la famosa Corsa del 2020, abbiamo beccato una giornata a giugno, a metà giugno, che era veramente non da novembre, da dicembre inoltre, giugno riserva queste sorprese incredibili. Io mi ricordo ancora la data nel 1979, andai a vedere al cinema qualcuno volò sul nido del cuculo ed era una giornata di un freddo, di un qualche cosa, di quasi febbraio per dire la verità, magari solo quel pomeriggio, però giugno regala queste cose. Chi organizza la Corsa del Ricordo? Intanto grazie per l'invito perché è sempre un piacere venire da voi. La organizza il Comitato Trieste Corre, dove siamo noi come Trieste Atletica, la PD Miramar che organizza la Bavisela, sempre in collaborazione con noi, ASI che è l'ente di posizione sportiva a cui siamo affiliati. La gara è sotto legge della Federazione Italiana di Atletica Leggera, quindi è una gara di carattere nazionale. Il percorso è un percorso peraltro molto semplice, ma in piena natura, quindi è totalmente pianeggiante. Sono due giri di circa 5 km, quindi il chilometraggio finale è vicino ai 10 km, poco sotto i 10 km. È una gara che si presta al risultato, ma si presta anche ad ammirare a Passo Duomo, altezza Duomo, il territorio attorno, che è il Carso Triestino, fondamentalmente, con scorci sul mare e quindi certamente è un momento poi attorno alla fobia di Basavizza, quindi non a caso si svolge in quel territorio. È un momento, è una corsa che regala emozioni uniche dal punto di vista competitivo, ma anche... Sì, sì, è un cerchio praticamente. Il terreno è totalmente corribile, quindi non c'è niente di pericoloso, non ci sono salite pianeggiante, quindi il tempo lo si può fare. Ci si può anche veramente direttare nella non competitiva, che parte assieme alla gara competitiva, che vuole essere veramente un momento di passeggiata intorno ad un territorio che ha una pienezza di sentimenti riguardo al periodo storico in cui si svolsero i fatti di allora, insomma. Parte da... Parte dalla fobia di Basavizza. Ah, parte dalla destra della fobia di Basavizza. Sì, infatti sostanzialmente è un giro da 4,5 km e 8 km, più di uno tecnico, e se ne fanno due proprio per evitare percorsi troppo impervi, diciamo. Ma quindi se non ricordo male, tra l'altro comincia anche con un bel tratto in bosco. Comincia con un bellissimo tratto in bosco, poi si attraversa. è poco battuta quel sentiero da chi corre si preferisce di solito ci si concentra più su Basovizza sul circuito famoso di Basovizza si arriva anche là lì è bellissimo diciamo che come zona è stata un po' dimenticata dai runner abituali però di fatto ha questa parte del suo percorso con questo scorcio fantastico su tutta la valle di Trieste che vale la pena sicuramente percorrere la colgo sicuramente quanto ha detto Omar nel senso che non necessariamente questa corsa deve essere intesa come corsa quindi agonismo certo c'è la parte agonistica ma invitiamo assolutamente anche chi ha voglia di farsi la passeggiata solo di esserci quindi di fare il percorso magari quello più breve per poter dire sono stato la corsa del ricordo percorsi due quindi quello più lungo quello più corto il percorso è unico il percorso della gara competitiva è come dicevamo lo si propone due volte quindi faccio due giri del suo percorso la gara non competitiva invece parte e arriva quindi fa solo un anello in sostanza si parte subito all'interno del bosco si gira leggermente a destra dopo circa 400 metri si percorre si percorre in un prato un bel pezzo e si rientra poi nel bosco dall'altro lato per uscire il giro è il contrario di quella carsolina perché la carsolina partiva andava verso le rose del carso e poi si proseguiva da quella parte invece questo fa il giro contrario come si fa a come posso dire a inserire una una gara relativamente nuova in mezzo al contesto di gare già esistenti cioè non credo che sia così semplice non è che uno possa beh è relativamente nuova parte già nel 2013 se non ricordo male non vi dico per esempio nel 2013 quando avete iniziato ma è partita a Roma ah cioè Roma è stata la diciamo così fondatrice diciamo della corsa da ricordo quindi è partita a Roma per due edizioni svolte a Roma dopodiché è approdata a Trieste ho capito Roma ha contattato ovviamente Trieste perché insomma è anche un po' la sua sede naturale per ovvie ragioni sì dopodiché per alcuni anni siamo andati avanti appunto Trieste Roma Trieste Roma a fare questo binomio lo scorso anno altre due città si sono unite a questo cordone infatti è cambiato completamente il il logo diciamo così della corsa da ricordo facendo questo bellissimo nastro che avvolge l'Italia e quindi eravamo in quattro città da quest'anno otto quindi quest'anno si è svolta la prima naturalmente il 10 febbraio data evidente evidentemente importante a Roma e dopodiché a settembre si sono svolte a Catania San Vito dei Normanni Verona Milano Novara San Vito del Circeo e naturalmente noi chiudiamo questo nastro di quest'anno 2023 con Trieste il 5 di novembre allora riformulo la domanda perché in realtà mi rispondo io a compito la domanda perché dal punto di vista tecnico è così allora non ci si alza domani mattina dicendo voglio fare una gara intendevo questo c'è proprio un'uso di da questo bisogna certamente incastrarsi in un calendario che è fittissimo quindi va fatta la richiesta noi siamo partiti sotto la legge dell'Asi per 4-5 edizioni quindi sotto la legge dell'ente di promozione sportivo sempre appoggiato dalla Fidel da quest'anno già dallo scorso anno abbiamo deciso di inserirla invece di fare una richiesta come Trieste Atletica in questo caso cioè la titolata per poterlo fare per essere inserita all'interno del calendario nazionale la richiesta viene inserita la Federazione Italiana valuta il valore della gara se ritiene che non vi siano altri competitor o comunque se ritiene che quella gara possa essere gara caratteristicamente di carattere nazionale a quel punto la inserisce in calendario e quindi dopo si mette nella tutta la parte burocratica che permette la richiesta di permessi autorizzazioni accordi perché poi insomma l'organizzazione di un evento che sia piccolo che sia grande il meter burocratico è identico specialmente nel nostro paese credo che ma dirò noi abbiamo relazioni anche con Slovenia con Croazia perché organizzano anche loro eventi forse forse dico forse perché magari mi smentiranno rispetto all'organizzazione estera quello italiano forse è più snella da questo punto di vista anche perché gli eventi sportivi non rientrano ancora negli eventi quelli che hanno l'obbligo di avere la certificazione del pubblico quindi usciti sicuri sì sì la normativa è più snella in Slovenia è già molto più complicato non fatevi sentire che magari c'è sempre tempo per complicare questo paese sempre un po' che si può complicare le idee però insomma da questo punto di vista è complicato perché è complicato perché poi si parla di volontari siamo sempre là abbiamo parlato tante volte quindi quello è uno nel tempo libero cerca di fare anche questo è il tempo libero uno spera lo possa dedicare in una cosa piacevole tante volte si incastra i meccanismi che non sono quanta gente vi dà una mano a livello proprio di volontari per organizzare per poi anche come dire svolgere anche un servizio di sicurezza e tutto ma il numero come sempre varia chiaramente dipende come sempre dalle disponibilità delle persone i volontari ipoteticamente lavorano e quindi di fatto grazie al cielo queste gare vengono fatte normalmente a saluto e domenica quindi un po' più disponibilità c'è normalmente su una gara di questo tipo qua lavorano sicuramente vengono a dare una mano una trentina di persone quantomeno il volontario oggigiorno soprattutto per chi ha il ruolo di presidente è sempre molto come posso dire attenzionato cioè anche anche una gara come questa una qualunque manifestazione sotto comunque l'occhietto dell'81-08 quindi di fatto bisogna sempre fare molta attenzione a cosa si fa parliamo un po' delle caratteristiche anche proprio tecniche del percorso non è un percorso eccessivamente impegnativo rispetto per esempio alla carsolina credo sia stata eliminata la salita non ci sono salita ma non ci sono salita ma non ci sono salita ma non è totalmente piano la gente che corridori del calibro di Jacopo De Marchi che attualmente è in gruppo assertivo esercito l'attivista atletica l'ha fatto stravolentieri come gara quest'anno si incardina in un periodo in cui si è terminato con la parte pista quindi la gente comincia a pian pian avvicinarsi alle corse campeste quindi si incardina perfettamente non escludo che ci siano diversi atleti di caratura nazionale che possono parteciparvi non è difficile è veramente un percorso che si lascia che si lascia correre si lascia correre da solo il terreno è totalmente sotto bosco quindi è anche poco traumatico per chi in realtà ha problematiche di caviglie o talloni o tendine in sostanza perché comunque veramente in un certo punto è totalmente sotto bosco e piacevolissimo chiediamo anche questo che se dovesse piovere aggiungo questo il 50% è coperto è quasi coperto dal bosco si bagna poco e niente questo è anche vero chiediamo anche questo perché magari qualcuno che io mi ricordo adesso non vorrei fare la parte di comunque io per una 10-15 anni ho corso con una certa diciamo regolarità mi divertivo niente di più però insomma lo facevo e molto spesso anzi più delle volte correvo tipo a Basovizza dove c'era un terreno anche delle volte un po' sconnesso sconnesso però e devo dire la verità che una volta mi sono messo a ridere perché qualcuno diceva ho trovato un circuito bellissimo dove correre dove non fai nessuna fatica eccetera dimmi dove dice intorno al sincrotrone sul pavè ora io là per dire la verità ancora ancora però mi ricordo che ho corso una sola volta a barco la ripavimentata e hai detto qua non corro assolutamente più perché è un disastro molti pensano che un terreno accidentato come può essere quello dei sentieri carsici sia peggiore in realtà mille volte migliore rispetto a chi corre che lo faccia a livello agonistico che lo faccia semplicemente a livello amatoriale sa che cosa significa correre su un terreno boschivo morbido magari della terra nera che abbiamo noi su in cars coperta dagli aghi dei pini piuttosto che correre appunto sull'asfalto sul cemento è molto molto più faticoso però io ricordo di barco quando prima correvi sul cemento prima della ripavimentazione era brutto però insomma lo facevi con la ripavimentazione nuova io una sola mi sono massacrato poi se ti manca qualche cubetto su di piedi il san pietrino è maledetto è maledetto è maledetto poi barco è particolare perché comunque ovviamente lato mare fino a fine al mare non è dritto è leggermente indice sul mare quindi correreci là significa impostare una corsa che certamente non è equilibrata quindi non è sulla gamba a destra o la gamba a sinistra a un certo punto non mi sono posto neanche più il problema quando torno quindi secondo me deve provare a correre tutti quanti la corsa del ricordo del 5 di novembre perché il terreno è veramente piacevole e fra l'altro è una distanza 10 chilometri che è fattibile per chiunque si avvicini e approcci alla corsa è un primo impatto per poi passare alla mezza maratona noi organizziamo corsi di avviamento alla corsa e tutti quelli che fanno i corsi di avviamento li porteremo a fare la gara di Vasovizza quando è l'appuntamento? a che ora e non competitiva in più quest'anno abbiamo una una novità un'aggiunta che è la ma è meglio che ne parli tu della corsa ma sì sicuramente quest'anno abbiamo invitato abbiamo invitato anche i ragazzi delle scuole quindi grazie all'assessorato abbiamo sono state mandate di circolare le scuole invitandole a venire su quindi abbiamo invitato i ragazzi tra i 10 e i 14 anni creeremo un circuito diverso da questo dei 4 km un circuito che in base poi all'età allungheremo accorceremo ovviamente per consentire a tutti i ragazzi di poter fare anche loro una corsa un'esperienza sul carso le iscrizioni? le iscrizioni sono online chiaramente sulle pagine social del Comitato Trieste Cor della Corsa del Ricordo e anche sul sito della Corsa del Ricordo nazionale trovate la possibilità di iscrivervi un link che rimanda al sistema di iscrizione il costo di iscrizione è di 10 euro per la gara competitiva quant'era per la gara non competitiva? 5 euro e invece gratuito totalmente gratuito per le luni delle scuole grazie alla partecipazione dell'assessorato comunale la Corsa delle Scuole quest'anno è stata fatta di domenica come prima prova per capire quanto può essere interessante che i ragazzi partecipano all'evento di per sé non è solo la corsa bisogna correre con una compatizione interiore e come diceva Alessandro il percorso sarà attorno alla Foglia di vasovizia in questo caso sarà di circa 500 metri lo si replicherà più volte a seconda da prima a seconda a terza media quindi tendenzialmente la prima media farà un giro seconda e terza già li metteremo sotto farli fare lo egi di più ci si può iscrivere anche diciamo anche sul posto prima della gara ok altra cosa mettiamo che le altre volte più o meno i numeri dei partecipanti sono intorno ai 500 partecipanti stiamo tra i 300 e i 500 insomma a seconda del periodo in cui l'abbiamo fatta e immediatamente questo è il numero Mettiamo che vi partecipi una persona che va insomma un podista della domenica come potevo essere io a suo tempo quali sono gli accorgimenti che vanno bene per la gara ma che fondamentalmente vanno bene per chiunque poi appunto pratichi la corsa per divertirsi per rilassarsi eccetera cioè quanto prima bisogna fare colazione perché io delle volte ho avuto dei problemi senza saperlo diciamo che la gara a 10 km la gara si può affrontare un pochino in tutti i modi chiaramente magari uno non arriva con il pranzo completo già fatto la mattina per la gara una colazione leggera magari un buon pasto a base di carboidrati la sera prima può essere sicuramente utile e la mattina una colazione leggera in sostanza anche perché poi a termine gara c'è il ristoro possono recuperare subito e rifocidarsi direttamente la cosa fondamentale molti l'hanno per scontato che essendo una gara anche aperta agli enti di posizione sportiva dove non vi è l'obbligo della certificazione medica agonistica in alcune circostanze quindi per la gara non competitiva chiaramente noi raccomandiamo sempre di fare anche la visita agonistica sembrerà una stupidata da me è una di quelle cose che in Italia funziona e ti permette di essere controllato quindi suggeriamo per chi non l'ha ancora fatto perdetevi magari due minuti fate o dieci minuti insomma la visita medica agonistica fatela perché avete la percezione specialmente a chi inizia un amatore della domenica di quanto il corpo ha bisogno di essere controllato anche per fare l'attività sportiva perché poi non si tratta della corsettina qua entriamo in competizione e la competizione ti porta sempre ad andare un pochino oltre il limite per cui sei abituato quindi è fondamentale controllarsi da questo punto di vista e anche c'è un immagino che rispetto a qualche tempo fa ci sia anche un problema di un problema una questione che riguarda anche l'abbigliamento cioè una volta andavi a correre a novembre sapevi che dovevi coprirti insomma perché anzi poi dopo certe volte mi pare che in alcuni anni che so da dicembre a gennaio almeno io non andavo perché insomma erano temperature adesso qua adesso ci sono corse e voglio dire per super amatori oramai che si fanno il giorno della Befana voglio dire con freddi di un certo tipo abbigliamento è sempre difficile il giorno prima guardiamolo le stagioni sono cambiate tantissimo oggi siamo a fine ottobre io sono in maniche corte cioè fa caldo fuori fa caldo andare a correre con un abbigliamento troppo caldo può far l'effetto ovviamente dell'evaporazione del corpo quindi di fatto andare poi in in crisi di sali quindi non va bene dobbiamo vedere il giorno prima la mattina prima e lì un vero atleta decide come andare vestito invece chi così anche gli amatori per dire la vita sanno come andare si oggi giorno sono quelli peggiori nel senso buono del termine nel senso buono del termine sono i più amati dai negozi perché l'amatore compra però in sinistra è una questione di occhio voleva anche il piacere di correre con qualcosa di piacere l'amatore normalmente compra la scarpa da 300 euro perché è quella che gli farà fare sicuramente il tempo e lo farà correre sicuramente più facilmente infatti non ho mai visto campioni mondiali di mezza maratona o maratona che corressero se non con il pantaloncino corto e la canottiera inverno e estate eccetera poi chiaro sono logati con il marchio che è lo sponsor del caso però insomma è una di quelle attività dove veramente non serve spendere granché per andare a racconto dopo vi racconto ma è troppo lungo e ve la racconto quando finiamo di quello che è successo una maglietta e un pantaloncino in questo periodo l'importante è che a fine gara poi uno si porti un cambio si cambia subito e la giornata è finita come è invece adesso la situazione proprio diciamo se posso dirlo in zona Basovizza cioè una volta tu andavi a Basovizza la domenica e non trovavi posto dove parcheggiare la macchina tanta era la gente che correva che andava anche in mountain bike eccetera diciamo la realizzazione del sincrotrone ha un po' diciamo ha fatto perdere un po' di appeal soprattutto al mitico giro di 8 km perché sta proprio in mezzo quindi si è dovuto cambiare un pochettino eccetera ma adesso proprio c'è sempre tanta gente la domenica a Basovizza oppure diciamo la location le location sono diventate di più si è allargata diciamo che Basovizza si è allargata in realtà non è è normalissimo girare per Trieste in qualsiasi ora del giorno o della notte e vedere runner che corrono che sia la mattina presto questo è vero che sia la mattina presto che sia la sera tardi a me è capitato di vedere l'estate magari gente correre anche a mezzanotte in sostanza Basovizza rimane secondo me come punto di aggregazione nel terzo tempo quindi uno va là insieme al gruppone di corridori fanno il loro giro Portovecchio è diventato è diventato un punto molto attrattivo è un ritrovo importante per i runner adesso l'hanno chiaramente chiuso la prima parte ma utilizzano la seconda parte ma non ci dimentichiamo che appena riaperto è stato veramente preso d'assalto dai runner triestini quindi era diventato veramente un punto di ritrovo comodo in città perché alla fine uno lavora trova il minuto Basovizza prevede appunto la domenica allora vado su passo la mattinata vado su all'area di Basovizza faccio il mio giro però è frequentato non come prima ma quanto prima la cosa che sta accadendo adesso è che il numero di runner giovani giovanissimi sta aumentando si si vede si si vede mentre una volta il runner il tapasione come ero io insomma tutti quanti cominciano a correre 28-30 anni adesso da quello che vediamo noi delle iscrizioni che arrivano comincia a scendere l'età quindi sono anche ragazzi di 20 anni che cominciano a correre anche in modalità di gruppo cioè questa è una cosa positiva quindi benvenga che si possa come diceva la napoleonica è sempre tipo corso itago la napoleonica è sempre stata poi che questo giornale d'estate continua a fare se vogliamo che poi non ci si rende conto che cominciarla è tutto la napoleonica è stata non voglio non voglio smentire ma la napoleonica poi con ghiaione quindi per le gambe è devastante è ancora peggio è farla in mountain bike lì è proprio lì è terribile per dire tanto fa è meglio tornare magari da poi anche anche la mountain bike gli sport sono diversificati l'offerta sportiva è aumentata quindi rispetto a una volta dove avrete un paio di scarpette se lo potrebbero permettere tutti quanti adesso come diceva lui la gente compra magari scappia a 300 euro magari una volta invece non se lo poteva permettere no e cambia allora ci arriviamo verso la conclusione ricapitoliamo come diceva Mike buongiorno diamo i raguagli allora la corsa la corsa del ricordo domenica 5 di novembre 9.30 10 le patente per i due percorsi diciamo così diversificati le iscrizioni possono farsi online credo che sia sufficiente scrivere magari corsa del ricordo si corsa del ricordo poi si vengono e ci si potrà anche iscrivere sul posto prima questi che si iscrivono sul posto quanto tempo prima è il caso che vengano diciamo sempre un'oretta prima è il corretto quindi sono su dalle 7 dalle 8 meglio che per le 8.30 al massimo poi chiudiamo le iscrizioni ricordiamoci non l'abbiamo questa è scoppa mia il luogo del ritrovo Foiba è il punto di ritrovo invito tutti appunto a venire quella mezz'oretta oretta prima anche perché possono fare con calma le iscrizioni e ovviamente fare il doveroso riscaldamento prima della partenza che questo è doveroso riscaldamento e poi alla fine c'è il ristoro ci sarà il ristoro perfetto allora grazie a Alessandro Piemonte presidente di Trieste Corre e a Omar Fanciullo di Trieste Atletica per essere stati con noi buon lavoro voi correte anche abbiamo corso e comunque corriamo tutto il giorno per organizzare questa cosa noi faremo quel corso la mattina alle 4 esatto la mattina alle 4 potremmo tracciare grazie davvero buon lavoro grazie a voi pubblicità poi cambiamo ospite e parliamo appunto dell'armocromia seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta cambiamo argomento affrontiamo un argomento molto molto particolare quello del trucco e eventualmente anche dei colori lo facciamo assieme a Jessica Murgolo che è appunto truccatrice grazie per essere venuta nei nostri nei nostri studi chiariamo truccatrice magari qualcuno pensa set il fin dei conti è anche questo perché anche il lavoro per un fotografo comunque si allestisce un set ma esattamente che cosa intendiamo quando parliamo di truccatore o truccatrice si diciamo che si tende a pensare quando si pensa alla truccatrice ai set più magari fotografici più di moda la moda queste cose qua in realtà la truccatrice è questo e tante altre cose nel senso che si si può collaborare con fotografi si può lavorare nella moda magari nel nostro caso a Trieste un po' meno perché ovviamente non siamo Miliano però soprattutto si possono trattare anche molti privati nel senso che si possono fare molte spose ci sono molte ragazze che per esempio devono hanno qualche appuntamento importante qualche serata qualche festa e si fanno truccare sì questo principalmente dai per esempio ho una ragazza che fa parte di un gruppo musicale quando deve fare i video si viene a far toccare da me è svariato insomma un po' il campo e voi siete adesso è brutto dirlo diciamo mettiamo sì che è più bello collegati a qualche che so a qualche salone lavorate diciamo da solo come funziona? ma diciamo che principalmente funziona con i passaparola fondamentalmente se una sposa ad esempio si trova bene con te ovviamente poi ti manderà l'amica che si sposa l'anno dopo esempio per quel che riguarda i fotografi ovviamente se un fotografo si trova bene con te ti farà sicuramente una buona pubblicità e magari un altro fotografo ti può chiamare è un mestiere che cambia che si oppure fondamentalmente la base quella è la base quella è però bisogna sempre assolutamente tenersi aggiornati perché comunque bisogna stare a passo con i tempi le mode cambiano quindi le tecniche cambiano ci sono sempre tecniche nuove sempre prodotti nuovi quindi assolutamente è meglio rimanere aggiornati e in genere il cliente la cliente o il cliente perché credo che insomma anche noi maschi sì ma arriva già con qualche con qualche idea se si fida si lascia diciamo guidare da voi come funziona? anche qua dipende ci sono per esempio certe ragazze che arrivano con la foto proprio vorrei questo trucco qua poi sta nella truccatrice magari a consigliare guarda forse per te sarebbe meglio un altro tipo di trucco se magari non è proprio adatto a quella forma dell'occhio o per quella determinata occasione oppure qualcuno si lascia guidare e ti dice sei tu la truccatrice fai tu fai tu sì è questo il miglior cliente oppure il miglior cliente è quello che discute no il miglior cliente è quello che ti lascia fare ovviamente allora facciamo un discorso di questo senso appunto uno arriva con un'idea e magari la copia la copia la vede su un giornale la vede che so anche non so su un film perché devo ancora capire se il film ha ancora questo potere come magari poteva averlo qualche anno fa più facile la foto sui social ecco siamo arrivati sì siamo arrivati a questo come fate a dirgli guarda che questo non è non è roba per te beh devi cercare di farle capire che la sua forma d'occhio principalmente perché principalmente di solito si parla del trucco degli occhi non si addice a quel tipo di trucco e quindi si cerca di farle capire che magari magari proprio facendole vedere facendole provare se hai il tempo ovviamente che un altro tipo di trucco le starebbe meglio e la valorizza di più questa è una cosa per esempio che faccio molto quando faccio le consulenze di autotrucco cioè spiego ci sono delle clienti che vengono e vogliono imparare a truccarsi diciamo e io spiego in base al loro tipo di pelle alla sua forma d'occhi alla forma del viso eccetera che tipo di prodotti usare quindi anche senza magari spendere soldi per trucchi che poi dopo non le servono e soprattutto proprio che tecnica usare e come applicarla come applicare esatto come e comunque si parte dall'occhio e l'occhio la diciamo il punto di partenza su cui cominciare anche un ragionamento con il cliente diciamo che quello è quello che i clienti guardano di più in un make up e tendenzialmente ti chiedono quello poi per la base ti lasciano fare si fa prima la base e poi si va con l'occhio ci sono parecchie persone che immagino io e io non è che mi intenda più di tanto però vedi che sono rimaste bloccate che so ad un certo tipo di ad un certo tipo di trucco molto molto agè per certi per certi io stesso capisco che certe cose magari potevano andare bene qualche qualche anno fa ma adesso non vanno non vanno più bene nel frattempo magari sto pensando se mi viene in mente qualche esempio del mondo dello spettacolo così può essere più chiaro dove voglio dove voglio andare a parare anche là e immagino che lì procedano da sole in che senso? che si truccano da sole in tv? no 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 anche gente anche gente per strada ah tu dici sì 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 assolutamente sì sto pensando stavo pensando se mi veniva in mente un esempio clamoroso per poterlo per poterlo applicare al nostro discorso ok ma difficile perché in tv di solito vengono truccati difficilmente ecco in quel caso appunto procedono da sole perché non crede però anche là se qualcuno viene da voi e vi dice vorrei continuare con questa cosa qua è difficile dirle beh si può cercare una variazione un po' più moderna di quello che piace a lei fondamentalmente bisogna con calma farle capire ma soprattutto facendole vedere facendole vedere sì fondamentalmente quello è più di impatto ecco per esempio queste cose che stiamo vedendo questa è l'armocromia questa è l'armocromia allora magari ne parliamo ne parliamo ne parliamo un attimo più avanti ok perché mi interessava andare avanti voi dovete quindi essere anche voglio dire un po' psicologi perché per l'amor di dio sono gli psicologi però dovete avere anche la capacità di di far capire di mediare ecco sì bisogna essere sicuramente molto delicati e soprattutto con le spose bisogna creare anche una forte empatia no perché comunque è un giorno particolare sono molto tese il giorno delle cerimonie è il mattina quindi bisogna un po' calmarle e molto spesso poi le spose diventano anche amiche perché poi si condivide un momento così tanto intimo che poi dopo ti ringraziano a vita perché poi succedono anche degli imprevisti e comunque tu sei là aiuti dai una mano cerchi la vedi in difficoltà cerchi di aiutarla quindi la truccatrice diventa anche un po' consulente e amica e qual è il rapporto magari proprio nel giorno nel giorno di un matrimonio ma comunque penso anche in altre circostanze diciamo importanti con il con il parrucchiere cioè voi intervenite quando il lavoro del parrucchiere è già finito sì di solito sì anche perché dovete avere ben chiara la testa brazo esatto la conciatura sì 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 diciamo che di solito prima opera il parrucchiere poi ci siamo noi quasi sempre il parrucchiere rimane poi per gli ultimi ritocchi per le foto sì quindi voi intervenite diciamo è l'ultima cosa se non ci sono è proprio l'ultimo sì magari può essere che vai prima perché devi truccare la mamma la nonna la testimone quello sì però diciamo nella sposa ci sono delle come posso dire delle immagino che sia difficile parlare di regole perché credo che ogni viso ha la sua ogni viso è differente dall'altro quindi non è che però che ne so se uno ha per esempio una forma d'occhio particolare è meglio intervenire in un senso piuttosto che nell'altro sì assolutamente sì ci sono delle regole di base sia per la forma dell'occhio sia per il contouring che sarebbe il bianco e nero praticamente ok quindi per correggere un po' la forma del viso poi è ovvio che queste regole di base vanno adattate ad ogni forma del viso o dell'occhio perché non è che tutti gli occhi sono come li vedi sul manuale dove impari di quella forma infatti poi c'è l'occhio più distante c'è l'occhio più vicino c'è l'occhio più cadente la forma del viso ci sono varie forme del viso a triangolo triangolo all'ingiù triangolo all'insù ovale però poi ognuno ha le sue particolarità proprio sue e quindi in base a quello tu adatti quello che hai imparato curiosità che mi viene in mente adesso c'è una persona ha gli occhiali beh li toglie però il make up si cambia si deve tener conto anche degli occhiali forse puoi farlo un attimino più accentuato perché magari l'occhiale nasconde un po' beh è meglio che si facciano vedere da voi se portano gli occhiali con gli occhiali sì questo intendevo sì anche se poi quasi tutte le spose il giorno del matrimonio mettono le lenti capisco insomma poi dopo c'è tempo per mettere esatto ecco volevo tanto per capire quanto una un'acconciatura un trucco chiedo scusa non un'acconciatura un trucco è importante ci sono poi anche dei casi in cui che so soprattutto per le attrici magari anche per le attrici di una certa età si vede per esempio che delle volte cambiano proprio non voglio dire la fisionomia proprio rispetto al trucco che 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 adoperano io ricordo una volta un'ospitata di di Sofia Loren in televisione e diciamo non sta bene perché perché era truccata male e ho detto però forse più che più che star male eccetera forse non è truccata non è truccata bene assolutamente e riapparsa poi in altre in altre circostanze e ho detto no si vede che veramente era truccata forse magari potevano anche non aver considerato le luci perché sappiamo benissimo che le luci hanno una certa importanza quindi lì credo che sia anche questo a tenere in considerazione assolutamente sì le luci sono importantissime quindi dipende un po' quel trucco per che ambiente lo fai perché ovviamente se ci sono le luci da set televisivo sarà un tipo di trucco se ci sono le luci da set fotografico un altro piuttosto che all'aperto e quindi assolutamente un altro tipo di trucco è molto più leggero e quello che dicevi di Sophia Loren invece per quel che riguarda questo trucco che evidentemente non la valorizzava probabilmente sono stati sbagliati magari ho proprio la base il fondotinta perché se tu hai un sottotono freddo e ti viene usato un fondotinta per un sottotono caldo ad esempio tu diventi gialla quindi da dove adesso non so probabilmente anche chi a quei livelli sembra come dire sempre poco truccata in realtà forse c'è tanto lavoro sotto sto pensando mi viene in mente Catherine De Neve che non ho mai visto truccata in maniera eccessiva e probabilmente c'è tanto lavoro sì perché comunque le luci da set tolgono tanto quindi bisogna far di più può darsi il caso anche magari di una persona che ha una una pelle particolare una conformazione anche del viso particolare per cui proprio non è necessario un trucco eccessivo sì assolutamente sulle modelle di vent'anni perfette quando vanno a sfilare puoi fare proprio una correzione della pelle minima e questo rimane anche più avanti cioè quando le persone invecchia oppure quando la persona invecchia allora c'è un discorso molto ampio nel senso che in realtà se una persona ha una pelle matura più tu carichi e più evidenzi quindi in realtà anche sulla persona matura il trucco va fatto in modo molto leggero ma nel caso delle modelle di vent'anni che hanno veramente la pelle di porcellana fai veramente si chiama correzione a spot o trucco a spot come vuoi praticamente vai semplicemente a coprire quelle piccole discromie della pelle che può essere una piccola occhiaia proprio e lasci il viso scoperto e libero prima di parlare della armocromia ancora una domanda che riguarda sempre le attrici eccetera è vero che c'è una mia idea che in alcuni casi un trucco nemmeno un trucco eccessivo ma semplicemente un trucco ben fatto è più efficace di tutti sti lavori che vediamo in giro da gente che si gonfia si tira io ho in mente per esempio Birnalisi che credo sia un esempio di persona che non si è mai che non ha mai nascosto le proprie rughe perché le proprietà la proprietà eccetera ma che probabilmente proprio per questo dimostrava molto più giovane di tante altre che pensavano perché probabilmente si truccava quel che bastava in un certo modo in un modo probabilmente appunto molto molto attento eccetera e non aveva bisogno di impianti e robe che sì assolutamente può essere assolutamente perché comunque nonostante ci sia il trucco che ti aiuta che ti corregge rimani tu a differenza invece rispetto a chi si fa le punturine che poi si trasforma e poi è chiaro che in alcuni casi anche di determinate attrici soprattutto statunitensi che si sono sottoposti diventano caricature di se stesse un po' e hanno la carriera rovinata sì perché questo bisogna anche dire allora che cos'è sta benedetta armocromia finalmente ci siamo allora colori armonizzati l'armocromia è l'armonia dei colori ed è una tecnica per la quale praticamente ovviamente tu scopri in base alle tue caratteristiche cromatiche alle caratteristiche cromatiche della tua pelle insomma del tuo viso sì scopri quali sono i colori che ti valorizzano di più colori scusa a livello di trucco o a livello di entrambi 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 capelli tutto temo che non sia un discorso che riguarda però i colori i colori che piacciono a una persona esattamente bravissimo diciamo che il 99% delle persone che si siede per fare una consulenza di armocromia ha in mente dei colori che gli piacciono e quando si fa questa tecnica appunto con i drappi e tu chiedi come ti vedi inizialmente loro ti dicono sempre che si vedono bene con i colori che le piacciono poi la seduta di armocromia consiste proprio in questo e cioè nel far non convincere ma nel far vedere alla cliente che in realtà i colori che le valorizzano sono ben altri perché quasi sempre non sono mai quelle che le piacciono questo non le va tanto bene questo non le va e neanche questo direi più ecco io temo a dire il nome di un colore perché non è che sia un colore particolarmente gradito negli studi televisivi e a teatro viola però mi pare che le stia bene insomma e questo da che cosa dipende un po' dipende allora principalmente da tre fattori dal sottotono della pelle quindi caldo o freddo e quindi se uno ha un sottotono freddo dovrà indossare colori con sottotono freddo quindi colori che principali tutti i colori possono essere indossati però devono essere contaminati di freddo quindi di blu ok mentre se hanno un sottotono caldo gli staranno meglio i colori con sottotono caldo quindi contaminati di rosso ho capito ok poi dopo il sottotono bisogna vedere il contrasto cioè il contrasto che c'è fra il colore del viso gli occhi e la bocca in base al contrasto se è alto o basso tu sai in che punto della ruota delle stagioni lei si troverà e poi l'intensità l'intensità è un po' difficile da spiegare dovrei mostrartelo con i drappi con i metalli con le cornici si fa tutto questo lavoro insomma la seduta dura a circa un'oretta perché con la cornice? è un altro modo perché hai più colori rispetto ai drappi che sono uno alla volta fondamentalmente diciamo che le cornici sono più instagrammabili si dicono adesso cioè più da foto da instagram mentre i drappi meno ho capito ho capito questa invece è la consulenza di self make up ok allora la persona che vedevamo prima qual era il colore che le stava meglio? allora Katia perché lei è una mia amica che mi ha concesso di fare questo video lei è un inverno è fondamentalmente ha un sottotono freddo quindi le staranno bene tutti i colori contaminati di blu contaminati di blu esatto e lo stesso discorso vale anche per gli uomini? si si assolutamente uguale ok dicevamo la difficoltà è far capire che magari a una persona il colore preferito non sta benissimo allora non è difficile nel senso che poi quando sono là seduti dopo un po' lo vedono loro e quindi ho capito capito? si si ci si mette in un allora facciamo un discorso per 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 noi uomini apparentemente il discorso sembra più semplice perché per esempio si sa che l'uomo in scuro generalmente risolve parecchi parecchi dei problemi la variante nel caso nostro potrebbe essere la gravata si basta il dettaglio assolutamente si 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 la cravatta piuttosto che magari anche semplicemente una camicia o una giacca può avere dei dettagli di quel colore pur essendo sotto un colore neutro chiamiamolo si 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 è abbastanza interessante devo dire la verità adesso per la moda io non voglio prendermi a modello eccetera molto spesso io decido come combinarmi a seconda della cravatta che ho in mente per quel giorno avendone a casa più di 200 comincia a essere un po' e lì si va anche molto a periodi perché c'è un periodo in cui hai voglia di mettere solo cravate diciamo in taunita beh sì magari dipende anche un po' dal tempo dalla stagione quello assolutamente ma la differenza tu la vedi ti è mai successo di metterti una cravatta o di vestirti in un determinato modo tu esci di casa e qualcuno ti dice che bene che ti vedo oggi quella è la differenza che fa il colore che ti valorizza io so per esempio io delle volte so che a me non stanno bene le camicie scure ecco o quantomeno dovendo stare quasi ogni giorno in giacca in giacca e cravatta difficilmente metto una camicia una camicia scura perché sarei costretto a ma sì perché in realtà noi ce ne rendiamo conto però poi continuiamo continuiamo sui colori che ci piacciono fondamentalmente come il fatto che il nero sta bene a tutti non è vero il nero sta bene solo è un sottogruppo dell'inverno quindi in realtà non sta bene a tutti però è un colore che poi tutti mettono perché io stessa perché ti facilita anche le cose esatto però magari quel piccolo dettaglio del colore che invece ti valorizza di più anche sul nero aiuta e lì la cravatta gioca un ruolo abbastanza importante perché poi tra l'altro c'è un altro dato anche la cravatta è un orpello insomma serve a poco però se non azzecchi l'abbigliamento o se il nodo e la cravatta non è fatto bene è la prima cosa che la gente io sarei inverno o estate eh non lo so dovrei farti ah bisogna fare il lano allora sarà basta che ma uno può venire anche autunno che deve essere lano ci sono quattro stagioni c'è la primavera ci sono due stagioni per il sottotono caldo e due stagioni per il sottotono freddo il sottotono freddo ha inverno e estate il sottotono caldo ha primavera e autunno vorrei essere autunno mi verrebbe beh ci sono certi che mi ah io sono nata in aprile sicuramente sono primavera no a me basta non essere autunno anche perché arrivando verso un compleanno ecco di dire piuttosto piuttosto importante già entri in un in una decade particolare difficile non è non è oh il discorso di il discorso dell'armocromia che cos'è è una specializzazione mettiamola così del del lavoro del truccatore eccetera oppure per certi aspetti scusate ma figurati è innata beh allora nel mio caso l'armocromia intanto comunque un po' di base di armocromia si fa già in un corso di make up perché ovviamente tu devi sapere quali sono determinati colori che valorizzano determinati colori d'occhi esempio l'occhio azzurro è valorizzato con ombretti di base rossa per esempio e in più serve tantissimo per la color correction cioè per la correzione appunto delle discromie che dicevamo prima della pelle per neutralizzare un colore devi sapere qual è il colore che la neutralizza esempio il rosso va neutralizzato con il verde per farti capire e quindi già di base esatto quindi già è un po' e soprattutto per sapere che fondotinta usare già tu impari a riconoscere quali sono i sottotoni della pelle in base ad altre cose nel mio caso ho voluto fare anche specializzarmi diciamo anche nell'armocromia perché comunque è una cosa che aiuta in questo settore non solo a livello di make up ma anche per esempio io collaboravo con una fotografa la quale mi chiedeva poi una mano per sapere che vestiti far indossare a chi faceva quale colori valorizzava di più quindi è comunque un in più nel caso della trocatrice come dire è come sì è una specie di master dai sì aiuta invece chiudiamo parlando proprio dei prodotti nel senso immagino che anche là ce ne sono tanti tantissimi di più e lì come fate li devi provare fondamentalmente poi ogni prodotto va bene per un tipo di pelle diverso quindi tu nella tua borsa trucco devi avere tanti prodotti di tanti tipi perché non sai mai che tipo di pelle andrai ad incontrare che si parli di sottotono che si parli di pelle oleosa di pelle mista di pelle secca e quindi devi avere sia a livello di skin care sia di make up devi avere un'ampia scelta perché devi essere pronto ad affrontare qualsiasi tipo di pelle e uno deve tenersi aggiornato assolutamente sì escono prodotti nuovi di continuo fondamentalmente se ti trovi bene con un prodotto sai che quello poi succede che questo prodotto non lo trovi più quindi devi andare a cercare un altro è così però la prima cosa quando io compro un prodotto nuovo lo provo su di me per vedere infatti volevo chiedere se uno provava a casa determinate determinate mi pare anche corretto per certi per certi aspetti come si impara il mestiere di truccatore di truccatrice e dunque devi studiare sembra di no ma devi studiare io ho fatto un corso ho fatto questo corso ce ne sono svariati di tutti i prezzi di tutti i tipi poi è veramente un mondo per uno deve partire anche devi piacerti questo tipo di deve piacerti io è sempre stato il mio sogno ho sempre truccato tutte le mie amiche da giovane mi truccavo tanto tanto di più mi è sempre piaciuto tantissimo certo di base deve essere che ti piace ti piace sì sì e qui ci sono dei corsi a disposizione ci sono tantissimi tipi di corsi ci sono tanti corsi per tanto cioè il mondo del make up è veramente infinito immagino c'è il trucco cinema c'è il trucco beauty che è quello che faccio io e il correttivo c'è il trucco televisivo c'è il trucco da set fotografico poi ti fai dei master diciamo che un trucco base come trucco beauty e correttivo già ti dà una buona base poi devi aggiornarti fare master fare di continuo corsi e cose mai sedersi mai non si smette mai di imparare allora io ringrazio Jessica Murgolo che è stata con noi truccatrice grazie davvero buon lavoro buon proseguimento grazie mille vi ricordo che noi ci vediamo domani alle 18 come sempre domani essendo venerdì l'appuntamento dedicato alla cultura nella seconda parte con Trieste d'Arte vedremo nel dettaglio lo scettro di Carlotta di Carlotta d'Asburgo e nella prima parte invece parleremo di un libro che ha scritto la nostra amica e collega Anna Lisa Perini ci vediamo domani buon proseguimento di serata a tutti arrivederci questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste grazie a tutti